Bergamo la Juve esce dalla sfida contro Atalanta con più certezze in difesa che in la squadra di Allegri. Nella partita contro gli uomini di Gasperini, mantiene la porta al Gevis Stadium ma non influisce sul dipartimento offensivo, commettendo solo due occasioni in musso. Per sottolineare le splendide esibizioni di Scesni e Locatelli, il meglio della Juventus visti azione a Bergamo, ma alla fine della sfida del settimo giorno rimane. L'impressione che i bianconeri fossero più solidi perché in realtà hanno osato meno e la domanda. Sorge spontaneamente è un difetto o un valore?